e rimaniamo per un bel po' con la musica dal vivo e con ben tre gruppi italiani iniziando da Il Balletto di Bronzo, gruppo napoletano capitanato dal tesserista e cantante Gianni Leone che ascoltiamo in Donna Vittoria inclusi nell'album Twice datato 1999. Il Balletto di Bronzo Grazie a tutti! 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 a tutti! ! Grazie a tutti! Grazie a tutti! ! a tutti! a tutti! a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!